Ciao! Questa è la tua opportunità per immaginare la tua città dei sogni. Questa è la tua opportunità per immaginare San Piero Patti come l'hai sempre voluta e come la vorresti. Questa è la tua opportunità per fare la differenza, per creare un vero cambiamento, per essere protagonista, per non lamentarti dietro l'angolo e invece venire fuori da protagonista e fare qualcosa di importante per te, per gli altri e per la tua comunità. Allora partecipa a questa campagna di raccolta fondi anche semplicemente condividendola con i tuoi amici e con altre persone che possono essere interessate, possono essere sensibili ai problemi della tua comunità e vogliono quindi dare il loro contributo a fare qualcosa di piccolo e di grande e soprattutto di importante. Puoi scegliere uno dei premi associati alle donazioni che puoi fare e li trovi appunto su il sito Eppala. Ti ringrazio per ogni cosa che farai su questa campagna perché io so, come lo sai anche tu, che possiamo fare la differenza e possiamo farla insieme. Quindi grazie ancora di cuore per il tuo aiuto, il tuo contributo è essenziale e quindi immagina il tuo sogno a San Piero Patti.